Non si resta mi fa. Blizza della squadra mobile della Questura di Arezzo in una casa di riposo non in regola ed è così scattata la chiusura. La struttura che si trova in zona Campo di Marte infatti ospitava anche anziani non autosufficienti senza autorizzazioni, ma non solo. Le rette venivano versate infatti al nero e il personale era senza qualifiche e contratto. Fondamentalmente dal punto di vista amministrativo era una struttura che di fatto non esisteva, quindi senza l'autorizzazione né tantomeno una denuncia di inizio di attività come previsto dalla normativa regionale. Le indagini della Polizia coordinate dalla Procura erano partite a seguito di un esposto. Alcuni parenti di alcuni ospiti che erano alloggiati all'interno e che lamentavano alcune negligenze nella gestione degli anziani. Gli accertamenti degli investigatori con la collaborazione dell'Asla sono culminati nel briz dello scorso dicembre che ha portato alla luce numerose irregolarità. All'interno della struttura noi abbiamo trovato otto persone anziane di cui quattro non autosufficienti, per i quali è prevista una specifica autorizzazione che invece era mancante. Sono stati poi trovati dipendenti, in totale sei, anche questi senza nessun tipo di contratto, quindi pagati in nero. E poi è stato riscontrato anche il pagamento, quindi delle rette mensili per la gestione di queste persone che si aggiravano in circa sui 1600 euro, anche queste senza nessun tipo di fattura e quindi in nero anche queste. Al titolare è stato contestato l'illecito amministrativo previsto e punito dalla legge regionale che sanziona l'erogazione di prestazioni socioassistenziali ad anziani autosufficienti e non senza la relativa autorizzazione. E' così scattata una sanzione pecuniaria di 15.000 euro. La segnalazione di quanto accertato è stata poi trasmessa al comune di Arezzo che ha disposto la chiusura dell'attività. Sono infine in corso ulteriori attività investigative. Volti ad accertare l'eventuale reato dell'esercizio abusivo di professione sanitaria.